il venerdì 26 febbraio del 2021 sono 200 anni dalla morte del grande pensatore joseph de mestre nato nel 1753 e morto a torino egli è considerato un rappresentante sommo del pensiero contro rivoluzionario fu filosofo giurista magistrato diplomatico e molte altre cose tra le sue opere più importanti e più note ricordiamo le serate di san pietroburgo e il suo testo fondamentale sul papa egli incarna la reazione ad alcuni dogmi della modernità come la rivoluzione francese e l'illuminismo io vorrei estrapolare tre insegnamenti fondamentali dalle sue opere che possono esserci utili ancora oggi il primo è questo ovunque vediate un altare lì c'è la civiltà infatti non si enfatizzerà mai abbastanza sul ruolo del fatto religioso nello sviluppo delle società poi ovviamente individualmente si può essere credenti o meno si può rispondere positivamente o negativamente all'appello della religione ma questo è un fatto questa è un fatto fondamentale per capire il destino dei popoli gli atteggiamenti antireligiosi fino a se stessi non hanno ragione di essere anche in coloro che scelgono di astenersi dalla pratica religiosa la fede ci definisce ci apre orizzonti vasti e anche ci delimita per impedirci di cadere in alcuni errori poi penso che sia sempre più valido quanto detto da gilbert kit chesterton chi non crede in dio non è vero che non crede in niente perché comincia a credere in tutto ben detto chesterton il fatto religioso è molto più in alto delle miserie umane e per questo che molti vi rimangono attaccati pur constatando le miserie l'inedeguatezza e le bassezze dei ministri di culto a lui contemporanei il secondo insegnamento di de mestre è nulla vi è di così attestato nulla di più universalmente creduto in una forma o nell'altra nulla infine di così intrinsecamente plausibile della teoria del peccato originale ecco questo diceva de mestre e aggiungiamo noi fuggire dall'idea del peccato originale da vita a quelli che vengono definiti mostri della ragione invece la consapevolezza della nostra ferita della nostra limitatezza diviene la nostra forza come diceva san paolo è quando sono debole che sono forte è la nostra ferita che ci fa reagire cantare invocare e fare anche tante altre cose proprio nella consapevolezza del peccato e di essere creature che dipendono dal creatore possiamo partire per capire tante cose su di noi sul mondo che ci circonda questa è la felice colpa che ci ha meritato la redenzione come cantiamo nell'exultet il sabato santo o felix culpa que tale mactantum meruit abere redemptorem il terzo insegnamento di de mestre è questo non sono gli uomini che guidano la rivoluzione è la rivoluzione che guida gli uomini questo è un insegnamento importante e forse lui pensava alla rivoluzione francese ma noi possiamo pensare a tutte le rivoluzioni che si sono succedute negli ultimi due secoli rivoluzioni che pensiamoci bene non hanno condotto laddove certe utopie desideravano portarle ma hanno portato disastri ovunque ecco perché il nostro pensatore è considerato un rappresentante di quel movimento che si chiama contro la rivoluzione che pur se molto avversato sta sempre più conquistando le menti e i cuori di tanti giovani in giro per il mondo viene anche spesso citata una frase dello stesso de mestre che dice che la contro rivoluzione non è una rivoluzione al contrario ma il contrario della rivoluzione una frase che deve farci di certo riflettere ecco allora dobbiamo insomma celebrare questo grande pensatore e riscoprire questo filone di pensiero della contro rivoluzione che insieme ad alcune cose usurate dal tempo ci porta anche tanti elementi per la nostra attenta considerazione grazie per la nostra attenta considerazione